buongiorno buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video allenamento dedicato principalmente al pubblico femminile come vedete infatti c'è erica con me che farà da allieva quindi la facciamo sudare oggi facciamo un workout a 360 gradi quindi lavoreremo con tutto il corpo 15-20 minuti massimo di allenamento quindi breve ma intenso metabolico quindi faremo poi tutto senza fermarci quindi sono 15 minuti di fuoco ma prima di farvi vedere gli esercizi e iniziare questo allenamento la cosa importante è che i nostri cari amici a casa devono iscriversi ragazzi iscrivetevi al canale lasciateci un bel like e attivate la campanellina se lo fate non ci offendiamo anzi siamo contenti ci aiutate a far sì che il video diventi virale quindi vada a farsi vedere a tante altre persone che hanno voglia di mettersi in forma e di muoversi per migliorare proprio dell'essere fisico e adesso iniziamo con questa allenamento circuitino di riscaldamento 30 secondi di lavoro e facciamo il primo esercizio di coordinazione erica me lo fai vedere tu jumping jack alto fuori quindi con un braccio in alto con l'altro in fuori perfetto secondo esercizio andiamo a terra in quadrompedia con le mani sotto le spalle ginocchia sotto le anche appena appena sollevato da terra quindi andiamo a sollevare appena appena le ginocchia da terra vada lì con la mano destra perché hai il ginocchio sinistro con la mano sinistra il ginocchio destro mantenendo sempre l'addome contratto ci giriamo il pancio in alto e andiamo a fare il crab extension quindi da qui andiamo ad estendere in alto prima il braccio destro e poi il braccio sinistro esatto pingendo in alto la pancia cerchiamo proprio di aprirci molto bene erica facciamo i nostri tre esercizi come che ho anticipato 30 secondi di lavoro quindi 0 secondi di recupero quindi pausa 0 e lo faremo per due giretti quindi faremo due giri di riscaldamento il timer è pronto tra 15 secondi si parte ok quindi coordinazione motore ragazzi è bellissimo mi ricordo quando avevo iniziato a fare il trainer che nel riscaldamento ho detto sempre fai questi esercizi di coordinazione che sembrano una banalità però dopo vedi quando gli spieghi non vai a far fare tante volte in tanti sbagliano sinicata però sono momenti divertenti dell'allenamento erica l'ha provato un quarto d'ora prima di riuscirci eh nooo giallo guarda l'alto fuori l'alto fuori bravi ragazzi così molto bene in alto e in fuori mantengo 2 1 andiamo a terra mani sotto le spalle e la ginocchia sotto le anche e andiamo a fare il nostro fortaggio via tocco torno bravissimo esatto come vedete la mano destra tocca il ginocchio sinistro mentre la mano sinistra va a toccare il ginocchio destra mantenendo sempre bene l'addome quindi la cosa importante sempre l'addome contratto quindi manteniamo sempre l'attivazione degli addominali ottimo molto bene si stai lì ora ci giriamo subito a pancia in alto crab extension quindi col braccio però vi lascia proprio ad aprire il pensiero ad andare a toccare il pavimento quindi andarci brava in estensione e spinghi in alto la pancia bravissima erica stringi i glutei e ruoco molto bene appoggio e salto giù e su brava spingete forte col braccio a terra per mantenere sempre bene l'appoggio ottimo si ancora uno e cerchiamo i piedi secondo giro di coordinazione vai alto fuori alto fuori si si ottimo ragazzi ci siamo eh allungate bene il braccio vicino all'orecchio e l'altro lo stendiamo verso lo stesso nel prossimo allenamento facciamo un pezzettino ancora in più e andiamo a fare l'esercizio ancora un po' più complicato quindi allenatevi con la coordinazione motoria soprattutto anche il motatore e le motatrici stup a terra mani appoggio sotto le spalle e vado su e giù tocco tocco molto bene bravissimo si si ottimo perfetta così tengo l'addome contratto e vado tocco tocco yes ottimo su e giù su e giù su e giù bene benissimo uno stop si vado pancinato vai estensione dietro butto fuori l'aria quando salvo mi apro bene e ritorno in posizione molto bene scendo e salvo brava fuori l'aria si e appoggio vai fuori bene così andiamo a lavorare con tutta la parte posteriore parte laterale cerchiamo a scaldare bene appoggio salvo i su vai ancora 3 2 1 stop ragazzi il riscaldamento è terminato e si è scaldata si pronta ok preparo il timer ok sono 15 minuti lavoriamo con una metodologia che si chiama EMOM cosa vuol dire EMOM vuol dire each minute on the minute quindi ogni minuto partirà un round e ogni round faremo due esercizi un esercizio ci accompagnerà in tutti i 15 minuti quindi lo andremo a fare sempre come recuperativo quindi terminato le ripetizioni del primo esercizio che mi accerco faremo ripetizioni andremo a fare come recuperativo quindi fino alla scadere del punto questo esercizio che è l'acto di butterfly che vi ha fatto quindi mirando i glutei mentre andremo a fare 5 round sulle gambe e facendo le forme incrociate per indietro Erika quindi da qui facciamo passo indietro incrocio e ritorno facendo 10 ripetizioni con la gamba destra 10 con la gamba sinistra in alternato quindi tu faremo dentro poi andiamo con i piedi sul box quindi sappiamo posizionare con i piedi sul box piani del piede uno contro l'altro ginocchio verso l'esterno da qui movimento contro l'altro quindi due secondi da salita e due secondi dalla discesa bravissimo e andiamo a fare il nostro arco femorale butterfly fino allo scorcare del minuto grazie Erika quando termina il minuto ritorneremo a fare i nostri 20 affondi incrociati e poi di nuovo il nostro arco femorale butterfly per 5 minuti al sesto minuto cambieremo l'esercizio primario andiamo a fare il nostro commando quindi esercizio per rinforzare addomi tricipiti spalle e pezzo quindi posizione di plank andiamo a salire prima col braccio sinistro scendo e salvo col braccio destro andando ad appoggiare bene la mano interna terminate le 10 ripetizioni di commando quindi 5 col sinistro e 5 col destro ritorniamo a fare il nostro arco femorale butterfly fino allo scoccare del minuto questo fino al decimo minuto gli ultimi 5 minuti invece andremo a lavorare con gli addominali e faremo le chiusure con un clap ecco quindi quando salvo applaudo e ritorno indietro prima con una gamba e poi con l'altra e ne andremo a fare 10 con la destra e 10 con la sinistra perché tale 20 e andremo a far bruciare i nostri addominali ragazzi spero di essere stato chiaro a spiegarvi il tutto e adesso seguiteci e partiamo erica primo esercizio abbiamo a fondo incrociato per tutto quindi tra 15 secondi partiamo ti faccio partire qui fino davanti al capettino erica così diamo può essere ottimo come riferimento anche a casa quando fate il passo dovete mettere il piede dietro del palpetto quindi dovete avere qualcosa da scavalcare bravissimo torno e arriviamo bravissimo ok importante il ginocchio qui eh quindi mantenete sempre bene il ginocchio in linea sulla caviglia quello è molto importante mantenere il ginocchio perpendicolare alla caviglia quando scendo e torno io ho perso il conto erica spero che li hai contati te sei dovrebbe sette no guarda sei sei sette ok vai vai te che dopo io ho contato mi sono perso a parlare vai ragazzi nuove 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 ok vai ultima partenza wow andiamo a terra quanti in alto siamo arrivati quasi lunghi vai piedi sul box dopo la facciamo andare un po' quello le spalle vai scegli su e scendi su e scendi molto bene vai ancora uno su i piedi vai dieci e dieci di nuovo ci salitiamo bello più veloce vai ancora lì one two three brava così, 4, 5, yes, 6, ottimo, 7, 8, bene, 9, così, 10, e vai, 1, 2, mi è molto meglio, 3, 4, butto fuori l'aria quando salvo, 5, 6, 6, ottimo, 7, 8, 9, vai con l'ultimo, 20, vai, a terra, molto bene, piedi sul box, e vai, su e giù, salvo, e scendo, palloni uniti, bene, ok, senza appoggiarvi, quindi mi fermo leggermente prima, e spingo sulla pancia, vai, fammi l'ultimo Erika, ok, sui piedi, ripetiamo, vai, 10, 10, ci stia scaldando, vai, 1, 2, 3, 4, bravissima, 5, 6, ottimo, brava, 7, 8, 9, incrocio, 10, e vai, 1, 2, schiena sempre bella dritta ragazzi, 4, 5, ok, così, 6, 7, 8, 9, vai con l'ultimo, e vai a terra, panci in alto, arco femorale, butterfly, contrague in lute, e su, fuori, e torno, fuori, e torno, si, ok, bravo, fuori, bravo, e torno, e torno, e torno, fuori, e torno, fuori, e torno, fuori, e torno, fuori, ok, in piedi, in parto, di mano, e vai, a formi crociato, vai che è il quarto, eh, 1, 2, 3, ottimo, 4, 5, 6, 7, ok, 9, vai, 10, così, brava Erika, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vai, ultimi due, 9, vai che l'ultimo, 10, vai su box, e vai, 20 secondi, qua saliamo, scendiamo, facciamo andare insano da tutte le parti, vai, 1, 2, bravo, contrai i glutei, 2, benissimo, 2, bravo, sempre massima contrazione dei glutei, 2, ok, così, sticco verso l'esterno, 4, 1, e vai, ultimo giro, a fondo incrociato ragazzi, dai che siamo qui, ce lo facciamo al e 1, 2, ne farei migliaia di questi, 4, 5, 6, ottimo, 7, 8, 9, 10, molto bene, 1, 2, 3, 4, ottimo, 5, 6, fuori l'aria, 7, 8, 9, vai per l'ultimo, 20, vai con i piedi sul box, e andiamo, ok, va asciù, 1, 2, 3, stringi glutei, 4, ottimo, 5, perfetto, 6, 2, su, 7, 8, 5, e stai con noi, ok, stai con me adesso, faccio ancora uno, ok, vai, finis il box, non giri troppo, vai, piedi su, e vai, su, poi l'aria, e giù, massima contrazione dei glutei ragazzi, mantenete sempre la tensione quando scendete, quindi senza appoggiare, bravissima, bravissima, su, e giù, su, e giù, ottimo, 1, ok, posso dare un bel brazo di male, ok, e vai di comando, e 1, scendo, 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 su, salvo, 2, molto bene, così, 3, ottimo, vai, 4, molto bene, 5, spingo, spingo, 6, vai così con quelle braccia, brava ragazze, 7, 8, ancora 2, 9, ancora 1, e 10, vai, talloni sul box, aiuto, ok, vai che ci siamo, stiamo giù, un po' troppo vicino, ok, vai, su e giù, vai, su, e scendi, ok, su, fuori l'aria, ok, su, molto bene, scendo, e salvo, scendo, e salvo, contraiamo i glutei, su quella pancia, su quel bacino, spingete fuori le ginocchia, ancora 1, vai, comando, di nuovo, rotoliamo, vai confumando, 3, 2, 1, via, fuoco, su, 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 vai, 1, come vedete, breve ragazze, ma intenso, eh, su, senza stop, andiamo a far accelerare il nostro metabolismo, 4, vai così, vai così, giù, 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 a 6, ragazze, volevo fare un comando in più, vai, così, su, le braccia non vale, vai, 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 ultimo, ok, faccio in alto, vai così, una volta, bravo, se ne vedi, perfetto, ok, talloni, su, vai, fuori l'aria, ok, fuori l'aria, e ritorno, ci stiamo scaldando ragazze, scriveteci dopo nei commenti, eh, vogliamo vedere tanti commenti, quindi scriveteci, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, vai così, ancora 1, vai, 1, vai, comando, ci siamo, ci siamo, ci siamo, gli ultimi 2, ok, vai, 2, 1, vai, giù, giù, bella lacrima, togliamocili via di subito i comandi, 3, vai, spingiamo con le braccia, 4, così, gli ultimi contratti ragazzi, andiamo i contratti, 6, vai così, 7, vai, gli ultimi 3, 8, vai, 9, vai che è l'ultimo, così, 10, vai, piedi sul box, subito, 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 stai con me, vai, piedi, ginocchio verso l'esterno, su, 1, 2, fuori l'aria quando salvo, 3, ok, 4, benissimo, 5, 6, ok, 7, 8, ancora 1, e vai, ci giriamo, comando, ultimo, forzamente, vai che è l'ultimo comando e dopo abbiamo il riavito, per concludere, vai, su, e 1, molto bene, così, 3, ottimo, 4, spingo, spingo, 5, così ragazzi, giù, giù, 6, molto bene, stiamo lì, stiamo lì, stiamo lì adesso, la quarta è più dura, 8, vai, così, 9, vai che è l'ultimo, 1, 2, 3, 4, brava, 5, 6, ottimo, ragazzi, un allenamento del genere, 4 volte alla settimana, vi dà grandi risultati, ancora 1, vai, pancina alto, e vai, subito, chiudiamo con i nostri addominali, chiusura e claus, vai, su, e invano, vai, 1, 2, 3, ottimo, 4, 5, 6, 7, 8, brava, 9, 6, 10, tenete bene la schiena a terra, vai, i talloni sul box, 10, 10, 10, ma va bene, facciamo 10, e ridate, si è fatta lo sconto, ma il lavoro adesso succede lo stesso, facciamo un po' più di glutei, dopo recuperiamo, vai, su, ottimo, brava, entrare i glutei, su, e giù, molto bene, bene, scriveteci ragazzi se sentite bene l'attivazione sul gruppo e facendo la morale butterfly, le sensazioni che avete con questo allenamento, vai, su, ora 1, ok, vai, subito, addome, aiuto, con chiusura, 3, 2, 1, vai, schiena a terra, vai, molto bene, bravo, 2, 3, 4, se sentite che la schiena si alza, tenete le gambe più in alto ragazzi, in quel modo è più facile mantenere la schiena incollata a terra, che è la priorità, schiena bella incollata a terra, se fate fatica con le gambe stesse potete piegare le gambe, vai, 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 stai lì, stai lì, tienimi con la schiena a terra, vai, vai, così, così, ottimo, vai, oh yes, vai, piedi su box, hai capito? su e giù, vai, su e giù, vai, up and down, up and down, su e giù, su e giù, su e giù, vai, su e giù, vai, su e giù, vai, e di nuovo, addome, chiusura e clap, vai, 3, 2, 1, sta perdendo tempo, vai, su e giù, 1, chiudo, 2, brave, apri ed un applauso, 3, chiudete forte con l'addome, portate in alto le spalle, metto al petto, molto bene, ottimo, brava e ripetendo la schiena incollata a terra, cercate di pensare a spingere dentro l'ombelico, di attivare l'addome profondo, su e giù, molto bene, vai, fuori l'aria, chiudo, chiudo, così, ancora, vai, 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 vai che sugli ultimi due, e vai, piedi su box, e andiamo, altro femorale butterfly, su e giù, su e scadate per i abdominali, sto muovendo, vai, su, fuori l'aria, fuori l'aria, così, su, su, benissimo, vai, di nuovo, chiusure, vai, 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 ecca, così, continua così, chiudo e apro, chiudo e apro, 1, 2, 3, 4, brava, 5, 6, 7, 8, brava, 9, chiudi, 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 10, vai, tieni la posizione, 1, fuori l'aria, 2, 3, 4, 5, vai, 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 5, 6, 7, 8, vai, che ultimi due, 9, l'ultimo, 20, vai, piedi su box, brucialo, brucialo, vai, su, 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 acqua e andiamo, vai, fuori l'aria, e torno, su, fuori, e torno, molto bene, mantenete le scapole vicine, ragazze, ci fermiamo sempre, prima di toccare il pavimento, vai, ultimo giro, vai, ecca, l'ultimo, l'ultimo ragazzo, l'ultimo minuto, fuori tutto, fuori tutto, fuori tutto, vai, su, chiudo e apro, chiudo, apro, molto bene, 4, 5, schiena a terra, 6, 7, metto il petto, 8, 9, così, 10, e vai, ultimi 10, 1, datevi un applauso, 2, fatemi sentire un applauso, 3, 4, stai con me adesso, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 8, 9, l'ultimo, 20, vai, piedi sul box, ragazze, sorpresona finale, andiamo a fare anche un minuto extra, e andiamo, finalmente fatto, fai su e giù, questa non ve l'aspettavate, fammi un sorriso, ecca, fate un sorriso ragazze a casa, vai, andiamo, continuiamo, ora, c'è un minuto di rinfrescati, che andiamo a fare il nostro termine, ok, così, 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 su e giù, su e giù, vai, ce l'ho io il timer, ancora 40 secondi, ragazze, su e giù, piano, stringo i glutei, spingi in alto il bacino, andiamo a dare il colpo di grazia, ai glutei, femorali, colpacci, vai, attivazione metabolica, ultimi 20 secondi, vai Erick, adesso, spingi quei glutei, spingimi su quel bacino, spingeti in alto la pancia, ragazze, così, fuori le ginocchia, scendo, toglie la mano, toglie la mano, ben giù, ok, e su, vai, giù, e su, così, così, ci siamo, ci siamo adesso, come andiamo? Ci siete? Sì o sì? Sì sì? Sì o sì ragazzi? Stop! Bravo! Bene! 15 minuti ragazze, di fuoco, totale, acqua di carri, eh? Ericka, com'è andata? Mi basta la fa tosta, ha sudato, ha sudato, ma è perché è caldo fuori, insomma, che sensazione hai avuto con questo un allenamento breve, ma, tosto, era metabolico, fare gli esercizi, lo stesso esercizio ripetuto per più volte, sostanzialmente, ok, quindi hai sentito il lavoro, sull'interno, hai sentito la rete? Sì, più difficile le ultime due, con le gambe e le addominali. Sì, le braccia e le addominali peggio che le gambe, erano anche sui ultimi gruppi, quello è un po' amicidio, di solito, comunque le ragazze sono più allenate sulla parte inferiore, quindi gambe, fate una fatica e soffrite un po' di più sulle braccia e sulle gambe. Per questo è importante, ragazze, andare ad allenare anche braccia e addobbe, perché il corpo è formato da braccia, gambe, addominali, quindi da tutti gli arti e da tutte le nostre parti, quindi andare a lavorare solo sugli arti inferiori va a creare uno spiliglio a livello generale, quindi anche fisico non armonico, ma anche di far raggiungere meno risultati, anche tante volte le ragazze fanno fatica a perdere peso, il 90%, perché magari sarebbe soltanto sempre lo stesso modo e solo allenato le gambe. A lungo andare il corpo, il fisico si adatta e quindi è importante anche stimolare la parte alta. Erika, grazie per essere stati allenati. Ragazzi, vogliamo vedere tanti commenti, quindi commentate qui sotto come siete andati con l'allenamento, le sensazioni che avete avuto. Se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale, lasciatevi un bel like, attivate la campanella per essere sempre aggiornati e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao e stai con me! Ciao!